Se non mi riesci a venire. Va bene. È stato un piacere. Allora, anche a me. Però, guarda, c'è... Chiamami. E io ti denuncio, se non mi mangi. Ma allora tu mi vuoi male? Chiamami. Ah, ti faccio lo scrivere. Certo. Perché se no ti denuncio, se non mi mangi. Sei deribile. Ma domani ci vediamo. Io sono molto terribile. Ci vediamo la parte... Che segno sei? Ho imparato da voi italiani. Fai ragione. Dallievo che supera il maestro. Che segno sei? Di che segno sei? Qual è il tuo sign? Scorpione. Sbagliato. Sagittario. Leone. Ma oh. Ma che me so io? Io sono il peggiore del peggiore. Gemelli, gemelli. Mamma mia. Gemelli è il peggiore, hai ragione. Io so che sono. Mia madre è gemelli. Leone. Cioè, io quando mi sveglio non so chi sono. Sei solo triste, gemelli. Cioè, sono vicini di casa. Vicini di casa, ma... E uforica. Guardia. Sei sempre sorridente però tu. Sì. Sei nata col sorriso. Però ora copritore di gemelli. Poi ci abbiamo Susi. Stefanizzi. Stefanizzi. Professione cantante però... Attrice. Attrice. E stasera anche fotografa. Anche fotografa. Sono polietrica. Io devo andare a fare la carbonara per me. La carbonara. Per tuo marito. Ti abbiamo il salutatore. Susi, raperissimi con la carbonara. Leone. Ricordiamo che delle leone. Susi, tu di che sei? Io sono un segno buono. Cioè? Cantro. Cantro. Il nome non... Diciamo che non... È brutto. Il nome è brutto. Però il segno è buono. Come il toro. Che è brutto. Il toro pure è un bel segno. Il toro è più bello. Cioè, guarda. Veramente il segno è... Beh, certo. Vedendo te senza dubbio. Guarda che si fa anche Angelica. Pure. Quindi la carbonara stasera. Ciao. Per rimanere leggeri, diciamo. No, per far dormire. E poi tu ti vai a divertire. Poi tu ti vai a divertire. Un bicchiere di vino. Due bicchiere di vino. E via. Vado a dormire. Senti, mandiamo gli auguri a Giorgia. È più bello. Non è registrato quello che ho detto del mio marito. Prima. C'è la data adesso. Eh? Sì. Non lo pubblichiamo quello? Taglio? Cazzo, roll è sì. Taglio? Cazzo, roll è sì. Yes. Lo vuol dire? No, perché lui sa che io scherzo sempre. Che siamo? Come si chiama tuo marito? Il mio marito è il lavoro più bello del mondo. Si chiama Gesù Cristo. Gesù, veramente? Paolo Filippucci. Adesso stiamo scherzando. Allora. Sai il video, lo sai? Sì, sto in video. Ah no, lo faccio fare una foto. No, a Demetra non glielo chiedo se si fa una foto. Io sono qua tra nazionalità. È una modella. Allora, te la faccio io. Allora, chiudo il video. Happy birthday a Giorgia Viero. Ecco. Sì, è straordinario. Grande giusto. Ok. Grazie a Gesù.